Meno male che è tagliato! Non fermarti eh! Non fermarti ti ho detto! Che stai pulendo tutto, non ti fermare! Ma perché ti fermi qua in quelle condizioni qui? Ma non si può, non si può! No, ma qua siamo arrivati ormai, prendi un po' di rincorsa là indietro e la fai lunga, non ti fermare lì in mezzo, no? Stingi ancora! Ma che bello! Guarda che non ho fatti, che ti ho preso per il colo eh! Guarda! Ruzzare! Lo so, ma sei bastardo eh! Fermarti lì apposta! Devi vedere che posizione classica che ha mantenuto a metà delle radici! Una gamba di là, una gamba di qua, la moto in mezzo che andava! Spettacolo quel video qua eh! Una figata! Arriva, arriva! Ho visto arrivare l'ora da andare a casa, prendi! Dai giù, a gambe larghe è andato! No! No, la moto andava, era l'unico legato! Sì, è sceso la catena! Scendiamo, saliamo e andiamo a casa eh! Sì, andiamo a giù, andiamo a giù e facciamo un po' Veniamo su di qua eh! Veniamo su di qua e andiamo a casa! Adesso puoi! Dai però, un tempo! Eh!